Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle, l'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Riva Nazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi, oggi siamo a Volpedo e tra poco tre persone fermate in maniera casuale per le vie del paese risponderanno alla domanda del giorno. Se dovessi chiederle un pregio e un difetto del comune di Volpedo, cosa mi risponderebbe? Qui a Volpedo è una cosa bella, bellissima. Tutta la sua pittura, tutto quello che ha fatto, penso che conoscano quasi tutto il mondo queste cose, non solo qui a Volpedo. Il borgo, quel qua, che è più bello, è una cosa bella. Poi anche la gente qua non è cattiva. Lavora qua? Sì, io lavoro qua e tanti anni mi trovo bene. Non ha mai avuto problemi con i cittadini di Volpedo? Problema no, non ho avuto problema. Un difetto di Volpedo? Non vedo il difetto di Volpedo. È tutto a posto? Sì, per me, che io non sono italiana, sì. Pregio? Un pregio, dirò che io ho 94 anni, ho visto Tempi Migliori e Volpedo. Tempi Migliori e Volpedo. Come mai? Prima era vivo, adesso sta morendo. Quindi intende che ci sono pochi eventi, ci sono poche cose da fare o anche altro? Un po' di tutto, proprio l'andazzo che non è più come una volta. Quando eravamo giovani, forse anche dato l'età, vedevo le cose più allegri, più vivo. Adesso, prima a Volpedo era uno dei borghi più belli d'Italia e adesso non è più come una volta. Quindi questo è un difetto, il fatto che non venga valorizzato, il fatto che sia un po' un paese spento? Perché? Perché i giovani se ne vanno. A venire a Volpedo i giovani non ce ne hanno. Perché secondo lei i giovani se ne vanno da questo paese? Perché? Perché prima è un paese agricolo, adesso importano tutti dall'estero e qui i prodotti vanno come vanno. I giovani non vogliono più sapere lavorare in campagna e allora studiano, poi vogliono l'impiego e questo è quanto. Un pregio invece lo troviamo? Un pregio, se diciamo un pregio, può essere un paese tranquillo, dormitorio. Che non si sa bene se è un pregio o meno. Sono ignoranti e maleducati. Come mai? Ecco, sono così, è il paese. Io non ho mai avuto aiuto con i cittadini prima, dopo sento che sono diventata vedova e allora tutti quanti sono amici. E io non l'accetto perché questa è un'amicizia fasulla. Quindi i cittadini di Volpedo a lei non piacciono? No, sì, così, così. Lei di dove è originaria? Io di Pescara, sono abruzzisi. E tanto tempo che è qui? 33 anni. E in 33 anni non è riuscito a farsi delle belle amicizie sincere? Ma sì, qualcuno, però bisogna sempre stare attento perché qui ti fanno una faccia di un modo e dopo una faccia di un altro. E invece è un pregio di questo paese? È bello, c'è Pelizza, tutto, facciamo le feste, adesso arriva il nostro parroco nuovo. Insomma è tutta una festa quando vuole, quando non ci vuole. Ormai sono qui da 33 anni e ci starò fino a quando non muoio. Grazie a tutti.